Ha ragione il Vescovo? Ha fatto bene a dire, a giustificare in qualche modo chi ha ucciso? Ha ragione, assolutamente sì, certo che ha ragione. Noi siamo in una situazione dove la legittima difesa viene interpretata da un singolo magistrato in base al posizionamento del ladro, al fatto se il ladro ha fatto un passo avanti e un passo indietro, al fatto se chi ha subito o chi sta per subire la rapina sia in grado di determinare se ha in mano una pistola o qualcos'altro. Siamo alla pazzia pura, siamo alla pazzia di uno Stato consegnato nelle mani dei delinquenti e io credo che la legittima difesa sia legittima difesa e valga per tutti. Se uno entra in casa mia o nel mio negozio io ho il diritto di difendermi e deve sapere in un paese civile che se uno delinque e viene nella proprietà privata a delinquere c'è anche il rischio che ne esca non in piedi. Questo funziona in un paese normale e così deve essere. Io sarò stanco che si giustifichi tutto e il contrario di tutto. Siamo nella complete mani dell'interpretazione della magistratura e viviamo una situazione di un governo che non solo ha buttato fuori i delinquenti dalle carceri ma ha depenalizzato 150 reati.